Oggi, 19 aprile, fino al 25 aprile, la festa di San Marco Evangelista. Siamo appunto nella parrocchia San Marco. Diversi saranno i momenti sia di preghiera ma anche di aggregazione, anche ludici. Esatto. Quest'anno abbiamo pensato di realizzare tanti eventi, non solo culturali ma anche recreativi, coinvolgendo ogni fascia di età, quindi ai più piccoli e ai più grandi. Ci saranno dei tornei di briscola, ci saranno dei giochi accompagnati dai propri nonni, cercando di rivalutare i giochi di una volta. Ci sarà una passeggiata ecologica verso il Parco Valate per conoscere questa struttura molto interessante. E poi, ecco, ci saranno altri momenti importanti dove si concluderà praticamente con giorno 25 con alcuni brani del musical di Francesco Miceli su Eceomo. Venerdì 21 ci sarà la gara di torte, quindi gli abitanti porteranno le loro torte e si sfideranno oltre a degustarle? Sì, e invito tutti quanti a partecipare a questa istituzione, a questa gara di torte, così presentando le torte casarecce, insomma, proprio fatte dalle proprie mani. Non abbiamo nessuna pretesa, però è il modo per poter stare insieme e per condividere anche questo momento particolare della festa mediante la gara di torte. Sabato e domenica sagra della salsiccia alle venti, lunedì sagra del pane cunzato sempre alle venti. Quindi, come abbiamo detto, momenti ricreativi e di aggregazione. Ma parliamo adesso dal punto di vista religioso, la figura di San Marco. San Marco, certamente, è una figura molto importante, intanto è evangelista che ha scritto di Santo Vancello ed è un santo poco conosciuto. Infatti, stiamo cercando di far conoscere questa figura di San Marco e abbiamo invitato il canonico Giuseppe Ranna, che è un biblista, dove ogni sera ci spiegherà un po' questa figura di San Marco, intanto anche dei contenuti, non solo così di conoscenza, ma anche cercando di capire questo passaggio di questo grande santo, che io dico che è lo sconosciuto, però, ecco, impareremo certamente a conoscere Dio.